buongiorno a tutti favoriti cavo consulato riso col sugo zia teresa salutiamo gli amici buongiorno a te buongiorno a me sto facendo pochi salzuletti ma sa quando pochissimo togli fatti riso trovi di mandare leggera questa giornata a nonna dicevo riso si scuagliare in da panza in da panza c'è una cosa più leggera sto facendo pochi salzuletti quindi giusto proprio addio la cipolla poi si aggiunge il salzuletti mettiamo pochi salzuletti e poi facciamo il riso anzi questo è un po' di cottura c'è un po' fresco senza paura una mezz'oretta una mezz'oretta veloce ecco qua ed eccoci qua anzi ci vuoi mettere una mezz'oretta allora metto pure poco di basilica un po' di basilica un po' di basilica anzi siamo pronti per il riso a me te poco poco il riso solo per te leggermente sta giornata io ti faccio leggero eh grazie ogni tanto ci vuole poco leggero facciamo cose di riso con pochi salzuli quindi pammigiano pochi salzuli ecco qua aspettiamo se faccio il riso 15-20 minuti e trovo il piatto a te 15-20 minuti sì il riso tanto ci vuole attendiamo il sugo si sta facendo anzi sì ecco aspetta il duro aspettiamolo ah sì siamo a me te tacchiamo il di riso e il di riso così non dicono più che tu hai mangiato a passare ma che è leggero ecco qua ecco qua non si va a mescolare tanto bello eh un riso casante è pronto riso al sugo sì anzi salutiamo gli amici buongiorno a tutti favorito caro consulato riso col sugo buon appetito buongiorno a tutti